Ciao da Avsim! Mi sa che potrei dire lo sapevo perché me lo sentivo che alla fine Morata resta. Morata resta? Sembrerebbe così, insomma, non sta decollando questa trattativa con il Barcellona, o meglio con l'Atletico Madrid, ma da parte del Barcellona, per salutare anticipatamente il nostro attuale numero 9, che quindi non lascerebbe neanche la maglia Vlaovic, che nel caso prenderebbe la numero 7, per andare a terminare questa stagione sempre in prestito appunto ai Blaugrana. Morata ieri era a Madrid, ieri 26 gennaio è stato avvistato con sua moglie e con l'agente, con il suo agente, quindi parlare con il suo procuratore, probabilmente per quanto riguarda questa trattativa di trasferimento al Barcellona. Morata voleva scappare a un certo punto al Barcellona a dicembre, il Barcellona lo voleva, Xavi lo voleva, forse il Barcellona e Xavi lo vogliono ancora, ma sembra non esserci più l'incastro giusto per fare questa trattativa. Sottolino Morata voleva scappare perché siamo stati infarciti di retorica secondo cui Morata ama la Juventus, ha dato tante dimostrazioni d'affetto, però non mi pare, perché appunto quando ha visto che non sarebbe stato riscattato, quando ha capito che non sarebbe stato riscattato, vuoi perché gli è stato detto, vuoi perché l'ha dedotto, vuoi perché sapeva dell'accordo con Vlaovic, ha detto sai che c'è, io me ne vado adesso. Non ha pensato, ma non posso lasciare questa squadra in difficoltà nel bel mezzo della stagione in questo modo, e ha pensato al suo bene, ma ha fatto anche bene, cioè non lo condanniamo per questo. Per me Morata nel cercare di andarsene tra Capodanno e l'Epifania, insomma a Capodanno, quindi tra dicembre e gennaio, ha fatto la scelta giusta per la sua carriera e non lo biasimo. Biasimo chi, e sinceramente mi dà fastidio, fa ancora retorica sull'amore che Morata ha verso la Juventus, perché non è così, Morata è un professionista che fa le sue giuste valutazioni per il suo bene. Per il bene della Juventus non sono problemi suoi, se lui sa che non sarà riscattato fa bene a pensare di andarsene prima, ma la si smetta di dire che Morata ha dato grandi dimostrazioni d'affetto alla Juve, perché mi pare evidente che non sia come viene raccontata. Qualche dimostrazione d'affetto l'ha anche data, ma non esattamente come viene detta. E quindi poi cosa è successo? È successo che questo trasferimento non è andato in porto, più che altro perché la Juve si è opposta. Allegri ha parlato con Morata, ricordate lo ha detto lui, lo ha rivendicato lui stesso, trattenendolo, dicendogli abbiamo bisogno di te fino a giugno, e si era detto anche la Juve non lascia partire Morata perché non c'è il sostituto. Ora il sostituto sta arrivando e Dusan Vlaovic, perché essendo un numero 9 anche lui, possiamo considerarlo sebbene un sostituto di Ronaldo, anche un sostituto di Morata per ruolo, e Morata non va via lo stesso. Non va via non tanto perché la Juve si sia opposta nel frattempo, perché sarebbe forse molto più favorevole la Juve ad una partenza di Morata rispetto a quanto non lo fosse a fine dicembre, ma perché non c'è l'accordo tra Atletico Madrid e Barcellona. Si dice che l'Atletico Madrid non vuole rinforzare una diretta rivale anche per la Champions, oltre che per la Liga, come appunto il Barcellona, quindi ci sono ostacoli, ci sono difficoltà, e pare che non ci sia nessun cambiamento in una trattativa che è bloccata. Ora il punto è, come facciamo, come fa la Juve a far convivere Morata con Vlaovic, con Dybala che è ancora in rosa, anche se Chiesa è infortunato? E poi ci sarebbero Moesken e Caio Giorgi, quest'ultimo accostato a varie squadre di Serie A in prestito, anche come contropartita di altri giocatori tipo Nandez, quindi potrebbe andare anche al Cagliari. Sono ore complicate perché sta per terminare il calciomercato, può succedere di tutto, così come il contrario di tutto, perché secondo me tante delle voci che si stanno accavallando alla fine non saranno confermate, non si concretizzeranno, però ripeto, come facciamo a far convivere Vlaovic con Morata? E questa è la domanda. Allora la Juve ha un'idea di come gestire adesso l'attacco, di cosa consegnare ad Allegri, perché io sono sempre critico nei confronti di Allegri, perché non mi piace il lavoro che fa, come lo sta facendo, però è chiaro che se poi gli viene complicata la situazione, non è neanche tanto facile per lui. Fino a questo momento ha allenato poco e male, sia Morata come singolo che il reparto d'attacco, e i pochi gol segnati dalla Juve sono in gran parte colpa di Allegri come stile di gioco. Ma se adesso deve far convivere l'incompatibile, cioè cercare di mettere compatibilità dove compatibilità non c'è, diventa ancora più difficile, e vai a sprecare il colpo Vlaovic, che è un all-in per arrivare al quarto posto, come appunto è chiaramente stato interpretato, al di là che sia stata, come io penso, una scelta della proprietà, o come pensano altri, come pensate in altri, una scelta da parte di Agnelli e quindi della dirigenza. E quindi, come giocherebbe Morata con Vlaovic? Per me Morata può essere un esterno d'attacco, l'ho detto tante volte, perché Morata gioca bene sull'uno contro uno, nello scatto, nello strappo, diciamo negli ultimi 20-30 metri, sa affrontare l'avversario, saltarlo in velocità. Lo faceva anche nella sua prima esperienza in bianconero, partiva spesso esterno, defilato, per poi accentrarsi o magari scambiare con i compagni, però era una Juve diversa, che aveva un centrocampo più solido, che aveva un centrocampo di maggiore qualità, e che sapeva anche come squadra giocare meglio a calcio. Adesso Morata, che sinceramente sta facendo una stagione deludente, ma una stagione anche povera, povera proprio di contenuti, di spunti e di prestazioni, non lo vedo più tanto bene a fare all'esterno d'attacco, soprattutto se comunque c'è un altro numero 9. Un conto è Morata defilato a sinistra, con Dybala al centro dell'attacco, e dall'altra parte un'ala pura, come era a Chiesa o come può essere Quadrado, o come potrebbe anche essere Kuluseski. Un altro conto è Morata a sinistra, Vlaovic al centro e magari Dybala a destra. È un tridente più pesante di Dybala-Iguain-Ronaldo, dell'HDR, perché Iguain a centrocampo si abbassava a fare tanto lavoro, Ronaldo restava lì e Dybala pure si abbassava, ma con Morata, Vlaovic, Dybala, si abbassa Dybala e basta. Cioè abbiamo praticamente due giocatori, non dico sopra la linea della palla, ma fuori dalla linea di contenimento raddoppiata, rafforzata, che spesso Allegri propone nel 4-5-1, che diventerebbe 4-4-2, iperdifensivo nella nostra metà campo. Perché Morata si abbassa a fare un po' di pressing, ma è sempre stato in questa stagione il terminale offensivo. Non possiamo pensare che Morata negli sviluppi si abbassi a fare l'esterno di contenimento, come ha fatto Chiesa, che faceva addirittura il terzino raddoppiato. E quindi non puoi mettere Morata e Vlaovic insieme come gioca Allegri. Attenzione, come gioca Allegri. Perché in qualunque altra squadra puoi mettere tranquillamente Morata-Vlaovic con Dybala alle spalle e un centrocampo a tre o un centrocampo a quattro con una difesa a tre che ti fa la fase difensiva, ti copre l'ampiezza e ti dà anche la profondità di costruzione offensiva. Qui non abbiamo questi parametri, questi presupposti. Non ci sono. Questi requisiti non sono soddisfatti per come la vedo io. E quindi, nel caso, Morata potrebbe giocare al massimo ecco, in un 4-4-2 ma senza Dybala. Un 4-4-2 senza Dybala dove metti magari Quadrado esterno di centrocampo o Bernardeschi e dall'altra parte l'esterno tattico che può essere Rabiot o può essere McKennie. Cioè, non schifo praticamente. Cioè, niente. E quindi metti Vlaovic e Morata davanti che fanno coppia d'attacco però ecco, sono due numeri nove. È difficile, è difficile che possano trovare l'intesa e fare quello che chiede Allegri anche come fase difensiva. Oppure nel 4-3-3 con Dybala ma come ho già detto a me piacerebbe anche ma come ho già detto non soddisfa i requisiti difensivi di Allegri di come abbiamo giocato fino a questo momento o addirittura il 4-2-3-1 sarebbe ancora peggio perché mentre nel 4-3-3 Morata ha la scusa di restare alto perché si può costruire un 4-4-2 difensivo con lui e Vlaovic che restano davanti nel 4-2-3-1 essendoci solo due mediani Morata si deve abbassare per forza a centrocampo oppure si deve abbassare Dybala perché il 4-2-3-1 sarebbe con Dybala che poi si abbassa in mezzo ai centrocampisti a fare addirittura un centrocampo a tre con lui in mezzo e magari a quattro con l'esterno di destra che appunto non avendo chiesa è un po' più difficile che pure si abbassa che dovrebbe essere quadrato barra Bernardeschi barra Kulusevski in tutto questo ci sarebbe anche un discorso valido per Ken che fino a questo momento sta facendo persino peggio ma molto peggio di Morata e che pure potrebbe essere un esterno d'attacco ma possiamo fare con Allegri un attacco Ken a destra Vlaovic al centro e Morata a sinistra la vedo veramente difficile a questo dobbiamo aggiungere anche dei numeri che sono andato a recuperare per contestualizzare un po' meglio il discorso e capire se abbiamo ragioni a sperare in un Morata esterno oppure è una cosa impraticabile come sospettiamo perché ripeto da una parte si spera perché ma fino a questo momento cioè senza Vlaovic la speranza era Morata esterno cioè attacco Morata di bala con un supporto a destra quindi 4-4-2 4-4-3-3 con Morata che rimaneva a terminale offensivo in 4-4-1-1 in fase difensiva così ripeto è più facile per come difende Allegri per quello che pretende Allegri e quindi Morata da esterno che cosa possiamo vedere in tutte le sue stagioni in campionato tenendo conto delle prestazioni nel campionato quindi anche nella Liga in Premier League Fonte Understat quando si è trovato all'esterno dell'area di rigore non necessariamente defilato è impossibile mi capite cari amici andare a recuperare dati aggregati su tutte le giocate di Morata in un determinato quadrante di campo dovresti andare a rivedere tutte le azioni che ha fatto ci vuole un mese praticamente quindi possiamo semplicemente limitarci secondo appunto Understat che ci propone questi dati a quando Morata ha giocato fuori dall'area che può essere anche in posizione centrale però diciamo che fuori dall'area ecco tanto al centro quanto defilato è comunque in un ruolo che non è esattamente il centro avanti e quindi da fuori area Morata ha un 96% di key passes per ogni tiro cioè i key passes totali di Morata da fuori area in tutte le stagioni dal 2014 mi sembra sono il 96% del totale dei tiri quindi abbiamo un alto numero di key passes rispetto ai tiri effettuati che ci dicono perché da fuori area è più difficile tirare che Morata quando sta fuori area favorisce anche favorisce anche la rifinitura perché quello poi dovrebbe fare Morata da esterno da esterno non tira da esterno deve fare assist mi pare logico deve partire esterno poi magari si accentra ma va sul fondo per passare il pallone come ha fatto diverse volte in questa stagione pensate all'assist a cos'era a Locatelli anche un altro che ha fatto di recente uno da destra uno da sinistra però sempre secondo Understat quando Morata gioca fuori area ha un tasso di conversione expected assist per ogni key pass di 0,03 cioè significa che è molto povera la rifinitura di Morata fuori area è difficile che Morata faccia assist invece se andiamo ad aggregare i dati su dentro l'area che sia l'area grande o che sia anche l'area piccola quindi complessivamente tutta l'area di rigore compresa l'area piccola Morata ha un rapporto key pass per tiro del 35% cioè i key pass sono il 35% dei tiri totali e ci sta perché stai dentro l'area ma per quanto riguarda il discorso expected assist su key pass saliamo a 0,36 cioè 10 volte quindi Morata dentro l'area è anche 10 volte meglio per quanto riguarda gli assist e allora se Morata deve fare l'esterno con Vlauic in una Juve che non entra in area di rigore possiamo pensare di vedere Morata dentro l'area a fare assist a Vlauic quante volte capiterebbe e Dybala che fine fa Kuluseski se gioca che fine fa cioè capite che è abbastanza impraticabile è abbastanza impraticabile allora io credo che siamo ancora una volta alla scarsa programmazione e all'improvvisazione da parte di questa dirigenza che è una cosa straordinaria che ci portano Vlauic ripeto ma devono cioè devono spiegare vorrei capire vorrei capire perché a fine dicembre Morata che forse riuscivi a trovare l'accordo con l'Atletico Madrid non poteva andarsene perché serviva il sostituto ma avevano già l'accordo con Vlauic e quindi poi arriva Vlauic e Morata non se ne va più perché non hanno mandato via Morata quando lo ha chiesto si tirava avanti qualche partita tanto avevamo Ken e Caio Jorge che potevano comunque giocare potevano comunque giocare magari segnavano più di Morata che ha segnato pochissimo in queste sei partite di gennaio e appena era possibile si comprava Vlauic qual era il problema perché non mandare via Morata quando lo ha chiesto perché trattenerlo e dire che doveva restare fino a giugno per poi andare a prendere Vlauic e tenere anche Morata che crea confusione e qui torniamo al discorso che vi ho già fatto che secondo me questa non è una mossa della dirigenza perché se la dirigenza è quella che intanto ci ha messo due mesi per prendere Locatelli ma poi ha trattenuto Morata è impensabile che a un certo punto si sia svegliato e abbia detto prendiamo Vlauic perché allora o lo aveva pensato già da prima il piano era questo e non ci troviamo una logica oppure che sia stata la proprietà con Exor o anche la dirigenza con Agnelli si sono semplicemente resi conto che questo mese di gennaio è stato preoccupante per non dire fallimentare perché l'unica vera novità è che si è infortunato Chiesa ma Chiesa cosa c'entra con Vlauic e con Morata come vedete non lo puoi sostituire cioè non ce la fai non riesci allora non possiamo dire si è rotto Chiesa e a quel punto la Juve ha deciso di anticipare Vlauic non credo cioè no correlation c'è molta più correlazione invece con il fatto che la Juve ha perso la Supercoppa italiana ha pareggiato col Napoli e ha pareggiato col Milan che sono due scontri diretti e quindi al di là della retorica di Allegri c'è un problema e a questo problema la Juve ha pensato di ovviare con Vlauic ma non ha pensato a cosa sarebbe successo se fosse rimasto Morata grazie per la vostra attenzione confortatemi con il vostro dissenso cioè nel senso ditemi che invece mi sbaglio e che Morata e Vlauic possono funzionare insieme e che non può essere invece un problema per l'attacco e quindi buon dibattito qui sotto like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi anche solo a 99 centesimi al mese per sapere in anteprima quando usciranno i miei nuovi video di cosa parlerò partecipare in esclusiva alla chat dei miei live post partita della Juventus ed entrare anche nelle chat riservate sul mio server Discord ci vediamo molto presto e sempre forza Juve